Immagino che la domanda sia perché è un podcast sulla valutazione di impatto ambientale e soprattutto parliamo di grandi opere, quindi come autostrade, ferrovie, porti, dighe, tutte opere che influiscono sulla vita quotidiana di ogni cittadino. In che modo emerge un'attenzione per la biodiversità all'interno dei progetti? Immaginandolo in termini molto precoci la possibilità e la necessità di parlare di cambiamento climatico e quindi di mitigazione e adattamento. Questa era la grotta di ricovero delle barche o a un materiale, deposito di materiale, qualcosa. Un luogo bellissimo. Incontri sulla via, punti di vista sulla valutazione di impatto ambientale. Da settembre, su Ispra Video Allora ci sentiamo a settembre, mi raccomando, seguiteci.